benvenuti in questa nuova serie di video che avranno un format un po diverso più personale più introspettivo a partire dal titolo la seconda comandata infatti nella marina militare è la guardia che va da mezzanotte alle 4 del mattino una guardia notturna quindi con tutto quello che di positivo e di negativo di bello e di brutto ne può conseguire non perché si fa di notte si può dire che la seconda comandata sia una guardia tranquilla nessuna guardia per definizione lo è ma indubbiamente la seconda comandata è un tipo di guardia che più delle altre lascia qualche attimo ai pensieri per articolarsi in modo più introspettivo probabilmente la seconda comandata è la guardia che più di altre ti permette di goderti il momento e anche per questo motivo che ho voluto chiamare così questa serie di video in cui non si parlerà direttamente di osint o di intelligence si parlerà invece dei fatti dei momenti delle esperienze che ormai quasi 30 anni fa mi hanno portato ad avere a che fare con questo mondo occuparmi di queste materie può essere infatti che raccontare il percorso attraverso il quale si è giunti in un certo luogo possa servire ad altri per decidere quale strada intraprendere per raggiungere quel luogo o magari per decidere che sono altri luoghi che in effetti ci interessano vi invito perciò ad iscrivervi al canale se volete a lasciare un like e vi do appuntamento alla prossima puntata di seconda comandata